amici ed amiche del canale un caro saluto a tutti e benvenuti a questo nostro appuntamento con world of tank blitz come sempre ringrazio moderatori moderatrici gli amici le amiche del canale i sostenitori e tutti voi che vi iscrivete ai miei canali social come sempre faccio vi ricordo che nella descrizione del video oltre a trovare i link per seguire i miei canali social trovate un link che vi permetterà di acquistare i giochi scontati fino a 70% oltre naturalmente vi ricordo di visitare il sito www.ipianibio.it che trovate anche il logo qui in alto visitate e soprattutto acquistate con grande fiducia allora andiamo avanti ovviamente con la carriera ecco qua allora ragazzuoli andiamo avanti quindi andiamo andiamo avanti con questa serie siamo inizio allo spettacolo speriamo di non fare figuraccia seguiamo con l'altro la oh oh Amico colpito. Amico colpito. Amico danneggiato. Willa, Gaia carissima, buonasera. Amico distrutto. Come stai? È un sacco di tempo che non ti sento. Buon inizio settimana, non so se ci siamo sentiti comunque. In questo momento ci siamo soli a te, nella 127 Bli. Stiamo facendo un po' di addestra, è stravenda notturna stasera qua. Amico colpito. Amico colpito. Allora facciamo una shootout a volo alla nostra Gaia. La nostra mitica Gaia. Facciamo anche una bella sbattudella di mani. Oh, sono stato bello veloce. Spero che non venga nessuno... ...alle spalle qua. Caspiterina. Cinque errori. Ah, non ti preoccupare. La sfoglia ci sta. Ebbè... Ebbè... Ma... Oppala, ha fatto un boom, ha fatto. Ne abbiamo vinto pure. Mitica, mitica Gaia. Mitica, mitica Gaia. Non preoccuparti che capita a tutti quanti, eh. Quello che so, erano quattro errori o cinque... ...quattro errori sulla scheda per... ...per passare l'esame. Sai che mi sono dimenticato? Perché sono passati pure un bel po' di anni. Da quando io ho conseguito la patente di guida. Non ho superato. Ah, non ho superato. Quindi il massimo era quattro. Aia. Ebbè, guarda che pure io... ...il primo esame non sono andato a colpo sicuro. Il secondo... ...ho studiato di più e sono stato anche fortunato. Ah, tre errori, ok. Io sono stato fortunato ma mi sono preparato bene il secondo esame di teoria. È ora di andare. Infatti quando rientravo il sabato sera, prima di... ...andare a dormire... ...mi mettevo a... ...a ripassare... ...tutto il libro del codice della strada. ...inclusi... ...inclusi le schede. E quindi... ...ti dico, non preoccuparti perché... ...può capitare. Spiva munizioni colpita. Per fortuna, non è esplosa. Singolo colpito. Fanno critico al motore. Sì, siamo bloccati. Aiaaa... ...è vabbè... ...c'è il carro migliore. Quando ho visto il sistema... ...danno aver fatto l'esame ha detto... ...complivenze, è riuscito lo stesso per me. Ebbè, piano piano... ...ci vuole pazienza, Gaia... ...non... ...non sempre si può riuscire... ...alla prima occasione. Quindi non... ...non... ...non demordere perché... ...sono cose che capitano. Anche... ...ai grandi... ...a quelli preparati, ecco. Quindi... ...no te preoccupate. Vai tranquilla, Caesaree... ...al prossimo. Andrà meglio. Siamo inizio allo spettacolo. Senza fare le figurelle. Allora, quasi sicuramente... ...questi vengono... ...sbubbano qua. Ok. Questo lo vedo pesanduccio, eh. Dove è l'altro? Oh, va a posto. Oh, va a colpire il ponte. Oh, cacchio. E vabbè. Breccato. Servatorio colpito. Abbiamo un cingolo danneggiato. Freccato. Ci hanno brevi tutti fuori. Eh, vabbè. Dove sta? Non preoccuparti, Caio. Capito, vedi? L'importante è che... ...non... ...non mochi. Come dicono quelli che parlano bene... ...never give up. ... E' ora di andare Andiamo belli leggerini qua Oppa, l'altra chi sta? E' un mosferuno Oh Oh, sentite un colpo qua? E' un po' vicino Mi sono leggermente Fatta toscio Allora, visto che c'è quel carro Io quasi quasi andrei A tentare La manovra di Di conquista Eh, ma che semmo vuoi fare una bella Però, no? La fai io Oh Chi è che me ha individuato? Eh Come no Fammi mettere ad arrivare qua dietro Fai in cato Abbiamo un cingolo danneggiato Corazzato nemico colpito Aia Mamma mia L'abbiamo preso Eh, vabbè Che se arrivano con i carri balli Tutti Grosci Grosci Robusti Alla fa Sciat I bicarbonati Sot Vediamo un bel GG ci 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 vai vai ok siamo ritornati un'altra volta andiamo con questo dunque questo l'abbiamo messo mettiamo questo riduciamo la probabilità spero no proviamo con questo va le stiamo provando tutte le configurazioni ah hai venduto la 500 la faccia del bicarbonato di sodio il 160 credo credo vagamente di aver capito di quale si tratta credo ma questi che fanno mi seguono c'è la miseria cosa è da pazzi in questo manicomio adesso mi sbucano l'improvviso eccolo là zitto zitto black viper si spregata un colpo in un elmento Non l'abbiamo danneggiato. Come non l'abbiamo danneggiato? C'è lo qua dietro? Oh, ha sentito un colpo. Un trato nemico colpito. Un trato nemico colpito. Un trato nemico colpito. Un trato nemico colpito. Escapa, escapa, escapa. Escapa, escapa. Escapisci, escapisci. Un trato nemico colpito. 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 Un trato nemico eliminato. Guaiu, attenzione. Attenzione. No. Un trato nemico colpito. Ho un relevo Scappa, scappa, scappa , scapp saliera Chiam Eis기자 E va bene Guardate qui l'arosta e vabbè bonus vai oh per un pelo stasera ho mangiato un'anguria bevi da sola gli altri diciamo che ti ha stimolato molto la diuresi se si può dire diuresi che fa fare tanta plin plin fisch stus ice dough Falso allarme, vediamo se riusciamo a fare un bel tiro dalla distanza. Spero che non mi becchino, allora, 6. Sì, eh, ah, vabbè. La birraus, quella pure, contribuisce alla rinaus. Alla flick. Vai. Albisardua. Spero che abbiamo un calibro decisamente piccolino qua. Qui. Vai, verde, verde. Breccato. Breccato, vai. Oh. Eh, giustamente. Vai. Caricatta. Grande Gaia. Mi ha portato fortuna la nostra Gaia. Applausi. 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 Passauro. Poi. Vai, vai. St'altamene è andata bene. Molto, molto bene direi. Un po' Deluxe. O deluxe, che dir si voglia. e tussi tussi allora vediamo un po' ho riscattato qualcosa ah provviste provviste kit di protezione rapporto potenza peso kit di protezione non devo sbloccare questo livello qua quindi bisogna aspettare ancora che è l'ideale questo velocità di brandeggio più veloce di branda potenza del motore velocità dello scafo ottimo la nostra mitica Gaia ce l'abbiamo solo noi la Gaia la mitica ma le angure già si trovano di questi periodi occhi aperti e pronti al fuoco si si io brevaro la griglia massima allora non devo andare su C perché C perché C sua oh aspetta però così puntata così in mezzo non mi sembra il caso dai che qua mi vedo ho l'impressione qua faccia una figurascia una magra figurella ah ah ok quella è pericolosa grazie grazie e tu Luz, come stai? Eh, mettiamoci a conquistare qua, vai! Oh, sento il rumore di brandina. Questa però qualcuno mi sbucherà alle spalle all'improvviso, eh? Vai, vai! Caricata! Oh! C'è il nuovo colpito! C'è il nuovo colpito! Vai! Grande Gaia! Oh! Ma questa Gaia mi stai portando per tu! Passa un po' più spesso qua! Vai, vai! Applausi per la nostra Gaia! Gigi! Ah, ci mancava poco! Vai, vai! Qua esce con un bel braccio di ferro! Ottimo ed abbondante! Vai, vai! Quanto manca? Vediamo un po'... Ah, 25, ok! Però questo... Mi sa che... Lo proviamo! Lo proviamo! Siamo stati fortunati! Vediamo se... ...sta fortuna... ...ce la portiamo a pressa! Occhi aperti e pronti al fuoco! Ah, questo è difficile! Armo ma lontano da qua! Visto che ci sta quest'altro tizio! Oh! Ho sentito pipì! Spostiamoci, vediamo un po'... Speriamo che non ci vengono a chiappare alle spalle! E ci fanno spallucce! Speriamo un cingolo danneggiato! Abbiamo un cingolo danneggiato! E vabbè... ...Leopard è... Sì! Vai, vai! Erratiti! Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Proviamolo, vediamo con l'altro carro com'è. Non è vero, non è vero. Tanto per arrivare a 900.000. è vero, non è vero. Grazie. Occhio, questi sbucano qua dietro. è vero, non è vero. è vero, non è vero. non è vero, non è vero. è vero, non è vero, non è vero. è vero, non è vero. è vero. è vero, non è vero. è vero. è vero. è vero. danno su assistenza però, questa è una cosa che non... è vero. Ah, guarda là, per una andiccia. Non l'ho sbloccata. Vittoria. Salutiamo Vittoria. Maria Vittoria. Vittorio e tutti quelli che mi conoscono. Ma chi lo sa? Ma chi lo sa zio Dab? Ma chi lo conosce Dab? E' il Dab. Di più non so. Oh, questo. Frux. Allora. Quanto manca? Poco. Ehm... Fammi vedere un attimo. Ah, no. Ma qua ci vogliono pure... Ehi, eh, eh. Va giù. Ah. 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 C'è ne vuole, c'è ne vuole. Allora. Ehm. C'era un modulo. Dov'è? Ah, qua. Più il 30% di velocità nella riparazione. Ok. Vediamo com'è. Così. Vai. Vai, baby. Allora. Ok, vediamo com'è. vengo a prenderti stasera sulla mia torpe c'è la nave dei pirati andiamo per il mare il bandito wow bella aspetta però aggiriamo l'ostacolo qua vediamo se riusciamo a prenderli alle spalle senza farci colpire la vedatura manovra avversiva oh cavolo non 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 Sì, vabbè. L'amico colpito. Eh, è meno male. L'abbiamo preso. Preccato. Preccato. Vai, affacciati. Caccia la capuzza là fuori, dai. Scapuzia, scapuzia. Caccia la capuzza. Uh, grande. Vai, va. Andiamo a comandare. Oh, l'ho sentito qua vicino. L'ho sentito. Oh, questo sta venendo qua, eh. Non vorrei dirlo, però. Vai, vai. Preccato. S.O.S. 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 Oh, caccio. Devo andare in aiuto. Oh, caccio. Oh, caccio. Oh, caccio. Oh, caccio. Abbiamo un cingolo danneggiato Fregato Abbiamo danneggiato Vai 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 sparo Vai Vai GG GG E questo me lo merito io Sul finale Vabbè Lo vediamo anche gli altri Che sono stati bravi tutti Albissardua Cosa ci abbiamo Vabbè Questo può competere Oh Siamo solo noi Qua E' ora di andare Vai tu vai Allora questi sbuano Questi sbuano da là Vediamo se usciamo No Questa è troppo potente Ragazzuoli Che botta fatta Che botta fatta E che botta fatta Fregato Vabbè Vabbè Perfetto Eh vabbè, non c'è andata di lusso, quindi manceva andare di lusso due volte. E questo ci si sa, vai, oh questo è veloce però, questo è un carro medio o un carro leggero, e questo è un guaiato, vai voglio metterli a arrivare, metterli a arrivare, yes! Ciccili. Questa? Ah, perchè ho distrutto un carro di livello superiore, ok. Però non ho capito, quanti? Blè, porpora, ah blè, quindi un carro. Buono, buono. Questo? Amici distrutti. Uno o due carri, ok. Raro tre carri, umano, me ne ha la miseria, vabbè. Allora, diamo un attimo una cosa. Raggio visivo, danni al minuto, protezione, protezione. Vediamo un po' questa. Vediamo questa come va. Questo modulo. Sherman, oh mamma mia. Buono, sì. Giro, giro, dondo, casca il mondo Vai, vai Votore distrutto Vai Cavolo Votore distrutto Votore distrutto Votore distrutto Votore distrutto Vai Vai, carica, carica, carica Dai L'ultimo colpo L'ultimo colpo Un colpo di pedale in quella parte, dai Sii, 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 carica noara vai yes a pezzi e pezzetti sto crollando semmai vai tranquilla Gaia non preoccuparti sarai sicuramente stanca grazie di essere passata comunque a trovarmi in live non preoccuparti vai proprio guardate la anguilla allora facciamo la shootout alla nostra Gaia mi raccomando andatela a seguire è una ragazzina una signorina molto divertente la nostra mitica Gaia ce l'abbiamo solo noi la nostra mitica Gaia a casa sii ma date l'impressione che era leggermente più performante aspetta però questo quindi e prendiamo questo ok vediamo come va andiamo a comandare a ver si 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 mi raccomando a ver si the Stanno con assistenza, però... Ah, ok, ricevuto. Guarda chi starò a essere imbascato, eh. Sto facendo uno. Eccolo qua, te hai visto uno? Ma io ti stanno andando a prendere. Eccolo, guarda. Si è accortuto. Ma guarda chi sto. Oh, questa mi sa che si è allontanata dalla postazione. Chi altro è rimasto? Solo lui, vabbè. Ne sono quattro contro uno. Vediamo quest'impresa epica. Ai, ai, ai. Dubito. Eh, vabbè. Voglio che io fossi in D... Se fosse un'escapare, eh. E' a ver. 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 Allora, vediamo un attimo una cosa. Ricerca. Comunque poi... Sblocchiamola. Aspetta, fammi vedere una cosa. 9,20. 9,35. Stiamo là. King Tiger. King Tiger. Allora, Sherman. Eh, vabbè. Occhi aperti e pronti al fuoco. Ma arriva quello con... Il Leopard. E ci iniziamo. Il Rafficare. Il Rafficucci. Rafficaus. Allora, quelli sbocano da là soledamente. E infatti. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non vorrei mettervi... Alinco. E va bene. Bravo, assist. Vediamo se riusciamo a catturare anche la piazza. Ce ne sono... tre, ok. Più siamo e prima catturiamo. Non catturiamo. Voi vanno forza, attacate, attacate Meglio non vate a rimuovere Gigi Ci sono un meppo le scene in su Allora vediamo un attimo una cosa però Allora le stelle qua ci servono 39.000 Quella serve per sbloccare 920 Questo qua dobbiamo sbloccare 935.000 Buccia roba Vediamo un attimo se possiamo convertire Allora in Crediti Si, allora oro quando ci abbiamo Potremmo riuscire anche già ad acquistarlo eh Andiamo un po' Vediamo Facciamoci solo un calcoletto Vabbè qua ci vuole Ci vuole un sacco di tempo 2 e 9 No Andiamo a combattere I moduli rotti I moduli rotti smettono di funzionare Giustamente Alvisardua Sherman Panzer Siamo inizio allo spettacolo Siamo inizio allo spettacolo Siamo inizio allo spettacolo Ah abbiamo anche noi Il leopart qua E com'è veloce E com'è veloce E com'è veloce E com'è veloce Ehm Ehm Ua leo Patina patina Vai via vai via Patina Non ti metterai qui Perchè quelli dovrebbero Sbuccare da lei E infatti Oh E' il nostro Amico Amico Devo beccare qui Le devo beccare E' quasi 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 fatta Va a facce Calone amico Danneggiato Interessante Amico Assistenza ok Quindi non ho fatto varia Un po' Allora ce n'è uno qua dietro Vediamo un po' Sì ma se tu vieni qua Sì ma se tu vieni qua Viste ma mi Ma chiappano subito Ma chiappano Allora Viste che così ce ne sono Quattro Io quasi quasi vado A dare una mano Aiuto Ok Non so n'è minuto Vai sparare Oh Amico distrutto Ce n'è uno da queste parti qua Oh ce n'è sta uno solo voglio Voi siete quattro Quattro C'è romatic Voi Prima venite qua E prima chiudiamo la partita Dai Vabbè divertiti Voi Bum L'altro colpettino Cici Voi Cici 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 Beh 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 Questi sono stati bravi 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 Altro che Sì È ora di andare Sì andate voi Io vado un attimo A prendere il caffè A Sì A Sì Si Siamo meglio Cazzo non c'avevo fatto caso Nemico colpito Carro nemico danneggiato Cazzo Abbiamo preso Siamo immobilizzati Singolo colpito Colpo critico Motore distrutto Tutti fuori Il carro è un rottame E vabbè Oh E vabbè Le prezbo E fai Il fatto Sì Quentano Poi Non Non Ah ma c'era un'altra qua! Odeisa! La vedo! Se l'ho scelto bello pesante il carro Haiyaa! Oh! C'è sui! Gigi! Ehm... 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 Coracciato, nemico colpito! Aiaiaiai! Coracciato, nemico colpito! Non abbiamo danneggiato! Bottiche distrutte! Non abbiamo più visuale! Rimmaggio! Non abbiamo neanche graziato! E vabbè! L'abbiamo preso! Vai vai! Ci hanno presi! Tutti fuori! Eh! E birro poco a tutti! Tutti fuori! Siamo fuori! Oh! Che sta facendo? No! Ehm... Beh... Che botta ha fatto! C'è botta ha fatto! Io non ho piccato! Maglioni! Maglioni! Stai andando! Maglioni! Ehm... Ma questi vengono sempre con questi carri enorme! È normale che vengono in battaglia! Sì! Ozzo! Ta presto! Andiamo prendere la colonna! Ma non è questa? Vai! Vai! Via la roccia, via! Che botta! Che botta, vaiù! Attenzione, che il nostro kill Victor Struct 1 Sierra combatte contro Tog 2. Riuscirà a batterlo? Ia che è difficile, ma no. Vai giù! Venite a dare la mano! Vai giù! Forza, forza! Siii! Grandi! Oh, stiamo migliorando un po', eh? Bene, 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 bene! Number one! Vediamo un bel moscoccio Tutti quanti Vai vai! Sherman, Sherman! Ah, lo stag 3! Lo lascio allora, lo stag! Che è tenere la posizione? Babbo Fai quello che ti va Allora, un po' mi devo... Dove stai? Ah, ok! Fai! Riccardo! Fai il colpo! Avevo un singolo danneggiato! Ah, basta! Là sta! Seccato! Wow! Zeccavi di niente, zeccavi! Voi! Porta dosta! Eh, va bene! Non! Oh! Oh! Ne è rimasto solo uno! Sì, è rimasto da solo! Da solo contro quattro, come fai? Beh! Beh! Ci sta! Ci sta tutto! Ci sta! 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 Qui rapidement facetto non piegare! E meno è oi qua di andare! a se vuare ma non c'è un po' Abbiamo un cingolo danneggiato L'abbiamo preso Ci hanno presi, tutti fuori Una vatto sandwich, una vatto Ma questi da qua sbucano Bello questo carro Qua ne sono rimasti Uno, due, tre Quattro ne sono rimasti Beh che botta Ah se è muovente mamma mia Terribile è quello lì Ah se è muovente Sono rimasti in tre contro due Uno sta là, uno sta ancora Uh cacca spiterina Sei rimasto solo Quattro ne sono rimasti in tre contro due Presidentissimo Grazie mille per il ride Benvenuti a tutti Grazie mille Grazie mille Buonasera a tutti Benvenuti Anzi per qualcuno Bentornati ragazzuoli Frank Carisma Buonasera a tutti Buonasera a tutti Buonasera a chiocciola da blogistica 1 La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro Scegli il vero bio italiano, buono e genuino Scegli i prodotti di I Piani Bio I Piani Bio, mangio bene anch'io www.ipianibio.it Ci trovi anche su Facebook ed Instagram Grazie ancora Gippo Grazie per il caffetta house che ci ha offerto gentilmente il nostro amico Giglio Per gli amici di Youtube Quella persona che io nomino sempre all'inizio dei video è proprio lui I Piani Gaming, naturalmente il mitico Giglio Ui, grazie ragazzi Grazie Ragazzi, com'è andata la live? Giglio, comunque, se stai su Youtube Vedi, c'è una serie che si chiama Trader Life Simulator 2 Vedi che Guardati una di queste serie qua, poi fammi sapere Se ti fischiano le orecchie non ti preoccupare Sono io che nomino ti Per fare un po' di Di promozione anche all'azienda Alla mitica azienda agricola I Piani Bio www.ipianibio.it C'è la roba buona e genuina Buonasera Presidente Monsieur Presidente Apertura a ventaglio Questi dicono che sono un linguaggio un poco poco strano Spostiamoci da qua dietro In realtà non era prevista Solo che siccome Mi ha presto un pochettino a sto giochetto E ho detto Invece di farlo offline Ho detto Ma lo condivido pure un pochettino E Almeno così Insomma Mi porta avanti un po' E' stato completamente Non previsto Com'è andata la La air zappa Un abram Ragazzi Ho colpito un abram Vai GG Ah ma ce ne manca Oh allora Qua si va a conquistare La riazza Campioni del monte Vai vai Cosa avete Seminato di bello stasera Con la coda dell'occhio Ho visto che Eri In Farming Avrei dovuto Terminare prima Solo che Mi sono portato un po' Avanti Staserie Staserie Insomma Qua Niente Seminato Quindi stasera Arature Imbiancatura E stiratura Ah Ma quindi serie Sull'off Bergman Se non ricordo male Mi pare che stai portando Anche una serie Sull'off Bergman Quella Com'è che si chiamava La Rocco farm Ah Sull'off Bergman Ovviamente Per gli amici di youtube Vi invito a Passare Dall'amico Kaiman Consentitemi Questo piccolo spazio Se siete Particolarmente Appassionati Dalla Hoffbergman Vi invito Ad andare a Seguire il canale Di Kaiman Lory Su youtube Che praticamente Vi fa Tutta una serie Di tutorial Che vi spiega Per file Per segno Tutte le produzioni Le fabbriche Tutto quello Che vi serve Li trovate Nel Nel canale youtube Del nostro Kaiman Underscore Lory Che è Lory di farming Kaiman Ma su twitch Però dobbiamo dire Il re È sempre Il presidentissimo Il presidentissimo Zappation Le president Zappan Oh Andiamo a dare Una mano Con un carro Qua Che Si Tirano Le palline Fatte Con la carta Oh Allora Stai Visto Ah ecco Dove stava Vedi Oh Ma Ah ma Quello è stato Per l'altra parte Stava Eh Eh Che Che Non ho detto La parolaccia Ok Qua Sarebbe In lingua napoletana Ma Guarda dove sta Scia Miseria Queste si presentano Sempre con le navi Spaziali Eh Sì Sì L'ho lisciata Voi L'ho lisciata Scia Queste Ma ci fanno La pella Come coraggio Ah no Perforata Ecco Qua Questa Arriva Dall'arrivo Vieni Affacciati 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 a Bacchone Rispondi Acidofono E sto E sto Vuoi Perché Sei Stata Solo Qua Aspetta Ma Che Sta Oh Ma Che Sta Cadere Sta Voglioni Help me Help me Aspetta Aspetta Vediamo Un po' Fugamico 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 Quando ci vuoi Ci vuoi Poi Giù Eh Io mi ero Tutto bella Quattata Alla dietro Eh Ma frega Guarda Rostata Guarda Vabbè L'ha fatto fuori Dai Eh Ma questi Ci hanno Dei Signori Carri Io c'ho 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 Proprio Vado Con la Carriola E loro Vanno Con i Trattori Eh Devo fare Ancora Parecchia Strada Eh Scerno Uh Che Botta Uai U Pamolo Carman Che Botta Eh Che Se Un carro Sovietico Questo Qua Vai Colpisci Sherman Vale Cambiamo Visuale Ecco Qua Eh Questa Non va Avanti Perché Sta lì Per lì Per farsi La perla Ma Si Sono Furbacchioni Vanno Avanti Indietro Perché Ti fanno Sprecare Il colpo E Quello Loro Attacca Chi ha sparato Sta bloccato Voglio Va Scuso eh Come fa Spare Aca Deve Stare Qualcuno Alle spalle No E' Solo Quello Uno Sono Rimasto Uno Contro Tre Che Si 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 Rimasto Ca Questo E' Rimasto Inceppato Vicino Eccolo Oh Oh Che Bomba Voglio Porca Miseria Mamma Che Castagna Voglio Che Castagna Gli ha Tirato Vedi Quelli Sono Dei Signori Carri Non Quello Che C'ho Io Io Qua Faccio Tutta Tattica Tutto Fumo Qua Ma Ma Il materiale Quello Che E' Allora Vediamo Un Attimo Se M'ha Sbloccato Il Terzo Nivelo No Non M'ha Sbloccato Ancora Allora Che Punte Siamo Con I Potenziamenti No 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 Andiamo Andiamo Andiamoci A Fare Un Altra Popopop Popop Uh, Kaiman stava qua Ehi, Kaiman, scusami Non ti ho proprio letto Mannaggia, guai, senza volerlo Ragazzi, questo è l'amico di cui vi stavo parlando prima Mi raccomando, amici di Youtube Andateli a seguire Oh, ci sta pure Mr... Ah, yeah, yeah L'altro amico di cui vi parlo molto spesso Amici di Youtube Andateli a seguire Grazie mille, ragazzuoli Oh, finalmente Allora, qua C'è brutta esperienza in questo posto Perché c'è solo che quelli sbogliano là dietro Eh, ragazzi Quando c'è Kaiman ci dobbiamo togliere il cappello Chapeau, come dicono i francesi Chapeau Oh, interessante sto tiro Però Non mi harpa Oh, sta funzionando stasera È arrivato Mr... Yeah, yeah Sta funzionando tutto Non abbiamo penetrato la francesa Eh, eh Parlate troppo presto Amico colpito Opla, questo bisogna fare Noi che ci abbiamo sti carretti Low cost Olla cost Ouà, è ci la conseguenza Oh, oh, oh Oh, oh Oh Oh, scappi, scapp Meglio scappare da qua, meglio non prenderli frontale a questi, i nemici stanno, eh lo so, ma io qua sto da solo, ne siamo due contro quattro, allora c'abbiamo qua, eh, se mi m'è fece, non si carboni, arrivo, go, vai, 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 va E vabbè E vabbè Ah è vero Che Ragazzi voi vedrete Il nuovo studio televisivo De mitico Aleasso official E l'Aleasso Altro che il Materasso Supremazio assoluto Allora Allora Puoi cantare anche il Materasso Aleasso E l'Aleasso E l'Aleasso Proposto però Fammi provare Fammi fare una sessione Con questi esplosivi Vediamo come vanno Tanto non li paghiamo Perché ce li abbiamo acquistati Sergente Grazie per essere passato Buonanotte Ciao maina pupille e buona continuazione Sergente Cippo un nome e una garanzia è vicecomandante di Plotone qua Sergente Cippo oh oh, oh, vieni qui oh non 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 Ah ho spregato un colpo, ho spregato Dai dai affacciati su Fammi dare un aggiatino in giro qua Lui Ha fatto la carrellata, ha fatto Eh si è baccato i fagioli Del fasularos Bebino parularos Attacchiamo Ok, si, quando ne siamo? Che ce ne stanno ancora di 4 No dai, che caspina No dai, che caspina Aie aie Come mai se ancora sveglio In realtà anche io sono ancora sveglio Ma ho detto ma per una casualità Per una pura casualità Casuality Aie 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 E vabbè E vabbè I gg Ci mettiamo un bel pollicione Che Che Erano Paricci Paricci Ora vado domani Ok Ale Grazie anche a te di essere passato Allora Allora ragazzoli Quasi Quasi Visto che si è fatta anche ora Direi che Ci fermiamo qui Ehm Mi ha fatto enormemente piacere Ehm Per ritrovarvi E quindi ringrazio Ehm Gaia Per essere passata A salutarmi Poi Ringrazio Ehm La zappa storta Per il ride Ehm Ringrazio i piani gaming Per il caffè Che ci ha offerto Andiamo giù Ringrazio Gippo Ringrazio Presidentissimo La zappa storta Per essere passato A salutarmi Mister Aie aie Ringrazio anche i piani Mi raccomando Per gli amici di youtube Visita del sito www.ipianibio.it E allora Grazie mille a tutti Aspettate un momento Mi sono dimenticato a qualcuno Grazie i piani Per i betterozzi L'ho detto Gippo Aleasso Buonanotte a tutti Grazie mille a tutti Thank you so much Ehm Stato buono Aiu Grazie a tutti Vai Vai con la sigla Zedab Alle pendici del monte cucco Nasce la società agricola bio i piani La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli Da noi troverai Farro Ceci Lenticchie E farine di farro Ceci e di grano duro Scegli il vero bio italiano Buono e genuino Scegli i prodotti di I Piani Bio I Piani Bio Mangio bene anch'io www.ipianibio.it Ci trovi anche su Facebook ed Instagram Grazie a tutti Grazie a tutti